Bella a tutti e benvenuti nel mio nuovo video, sono Sparks di Brawl Stars Italia e sono qui per darvi delle nuove informazioni di tutto ciò che arriverà oggi E alla fine apriremo anche la Super Mega Box e vediamo cosa troveremo Ieri eravamo tantissimi in live, quindi anche oggi venite tutti alle ore 5.30, vi aspetta in live per giocare insieme Non so se giocheremo a Brawl Stars o a qualche altro gioco, ma giocheremo insieme, l'importante è quell'insieme Iniziamo con il video Iscrizione e campanellina sempre attiva su tutte, mi raccomando, se no non vi arrivano le notifiche E poi commenti, like e condividete questo video, via! Eccoci qua, Brawl Lunare 12 Dicembre e come avevamo già predetto è arrivata la Mega Cassa gratuita Che riscatteremo a breve, ci sono nuove, no come sempre cose gratis per Sparks, nelle offerte di oggi non c'è mai nulla di buono E ora vi devo dire una cosa, cosa succede? Oggi oltre alla Mega Cassa, quindi il Brawl Lunare E' arrivata anche la nuova skin di Bull Buffalo Spaziale Che possiamo anche provare, volendo, è una skin proprio fatta a tema di questo Brawl Lunare Potete vedere la skin è abbastanza bella, guardate gli effetti finali dei colpi, è molto bello, quei luccichi Proviamo a caricare anche la Super, vediamo un po', facciamo una cosa veloce, non devo fare un'analisi della skin che è già stata fatta benissimo Mentre la Super, vediamo un po', lasciamo una scia qua La Super non ha effetti diciamo tanto diversi 149 gemme ragazzi per questa skin che ha questa animazione, comunque questa texture bellissima Ha anche delle animazioni personalizzate, una voce personalizzata e anche delle texture personalizzate 149 gemme che sinceramente io la voluterei 89 gemme, credo sia abbastanza Però 149 gemme è il prezzo ufficiale Andiamo a vedere che c'è in questa cassa insieme, vediamo se troviamo qualche schippetto luminoso che non ne troviamo da un bel po' Andiamo a vedere che troviamo in questa Super Mega Cassa Troveremo un... niente Al mio 3 ragazzi proviamo nell'impresa Uno... due... clicchiamo... e niente Un solo skip che è quello di Byron E niente, la cassa, la Mega Cassa è gratis E la è meglio se non c'è da uno, perché non c'è nulla Sicuramente fatemi sapere poi voi cosa avete trovato nella cassa gratuita Nei commenti qui sotto scrivetemi Io, Sparks, ho trovato questo nella cassa Ovviamente adesso tutti mi scriveranno ho trovato tipo... 3000 brawler, 6000 gadget A proposito di gadget Oggi è la data di rilascio dei primi due gadget Non so se ne hanno parlato già la Supercell Su Twitter non ho letto niente Ma in verità oggi dovrebbe essere la data di rilascio dei due nuovi gadget Eccoci su Twitter Quindi secondo il sondaggio I due nuovi gadget saranno quelli di Pocho e Mr. P Sono i due nuovi gadget che verranno rilasciati oggi Probabilmente sono già disponibili in gioco Quindi potrete già trovarli nelle casse E infatti Sparks non ne ha trovato nemmeno uno con la mia cassa Prima di concludere il video Andiamo a fare un po' di gameplay Andiamo a testare la nuova mappa del giorno Io avevo detto in live che d'ora in poi Mi sarei messo a testare ogni giorno le mappe del giorno Perché voglio giudicarle Ci sono veramente le mappe oscene ogni giorno Io questa cosa qua non la digerisco quindi oggi le andremo a fare Da oggi in poi ogni giorno un gameplay della mappa del giorno Per valutare se è una mappa decende o no La mappa del giorno si chiama Flower Ace Vediamo che mappa è Vediamo che cosa succederà in questa mappa Allora le casse sono da quel lato quindi Io sono bloccato qui Devo andare al centro della mappa per fare una Un qualcosa Perfetto i miei compagni squadri già mi hanno abbandonato Sono morto subito Quindi bisogna andare al centro e prendere il 3 trasporto Che dovrebbe essere il 3 trasporto rosso per noi Giusto? Quindi vado qua E andiamo a fare il danno È una mappa schifosa Non la repeto una mappa da competizione Cioè è più una mappa random Le solite mappe che passo nei turni Cioè non cambiano mai È una cosa assurda Devo dare un voto a questa mappa? 5 e mezzo In pratica i nemici stanno solamente difendendo Non stanno attaccando per nulla Le sono messi Dove siamo? Eccoli qua Veloce veloce Prendi il 3 trasporto No non voglio perdere così Oh becca di stato mazzare Quindi ragazzi Dopo aver valutato per bene La nuova mappa Dopo aver aperto la mega cassa Dopo aver parlato Dei due nuovi gadget Che sono già disponibili Oltre alle reazioni e alle offerte Mi raccomando Fatemi sapere cosa avete trovato oggi Fatemi sapere se avete trovato i nuovi gadget Noi ci vediamo stasera in live Alle ore 17.30 5 e mezza puntuali in live Ma quando vi aspetto tutti Venite che giochiamo insieme Ci divertiamo Tante risate assicurate E non dimenticatevi di iscrivervi Commentare Soprattutto condividere questo video Tanti like Ragazzi A stasera Bella Ciao